Ciao Eli! Ciao ragazzo! Stavamo parlando di te, ho un sacco di posti bellissimi da farti vedere. Oggi si trova al posto. Vai! Non ho dubbi. Andiamo! Secui, non se ne fa niente. Dai! Dai! Ecco, io te l'avevo detto, è colpa tua. Lo sapevo. Allora lo facciamo qua, in piazza, in mezzo alla vita, alla città, gli aperitivi, la movida. No, lascia perdere. La città. Qui dove? Dove? Alla natura, nel letto del fiume, con i caprioli. La gente è seduta per terra? Nutrie. Vicino all'acqua, seduti. No. E ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato il posto giusto. Grande fede. Ragazzi, dobbiamo muoverci, ho un sacco di posti da farvi vedere ancora. Grazie, Andrea, siamo a posto così, anzi. Staremo qui, al Teatro Farnese. Vi aspettiamo. Un saludo. Grazie a tutti.